Comune di Chieti e Associazione Ambiente e Vita hanno siglato un'intesa che sarà replicata anche in altri comuni per attivare un tavolo di lavoro sulle tematiche della salvaguardia ambientale e della cultura del rispetto della natura. Benigno Dorazio, presidente dell'Associazione Ambientalista fondata da Nino Sospiri, che opera a livello nazionale, spiega i contenuti della convenzione. Mi riguarda i rapporti della nostra associazione con questo comune ma evidentemente è duplicabile e replicabile in tutti i comuni italiani. È un modo da parte nostra di collaborare con i comuni per far crescere la sensibilità e la cultura ambientale nelle città. È un obiettivo strategico che noi abbiamo e quindi mi fa molto piacere iniziare da Chieti per tutta una serie di ragioni. Sicuramente i temi su cui noi lavoriamo molto a livello nazionale sono quelli dell'educazione ambientale che stiamo provando a trasformare in un'educazione al benessere che quindi contempla sia la parte più stretta di educazione all'ambiente, di rispetto della natura, ma anche quella di corretta alimentazione, guida all'esercizio fisico, tutta una serie di cose che possono essere a vantaggio delle nuove generazioni. Con questo nostro messaggio di un ambientalismo moderno molto umanista, ossia dell'uomo al centro del sistema ambiente ed in grado di dialogare con vari settori dell'economia, della società e della cultura. Per noi è importante che l'ambiente sia contemplato in tutti i programmi e progetti e che nello stesso tempo noi possiamo dare un contributo un po' a tutti.